Ciao a tutti, il 24 gennaio a Piazza Santissimi Apostoli, dalle 17 alle 20, faremo l'evento La Notte dell'Onestà. È un evento che cerca prima di tutto di spiegare a tutto il Paese, a tutto il mondo, che i fatti di Mafia Capitale non sono finiti, sembrano già dimenticati, invece sono ancora un tema di attualità su cui va portata l'attenzione per cacciare i mafiosi e i disonesti da Roma. Insieme a noi ci sarà anche Claudio Santamaria. Salve, il 24 ci vedremo lì, io anni fa ho fatto un film che si intitola Romanzo Criminale e sembra che questo film non sia ancora finito, quindi bisogna essere lì per non dimenticare e penso che tre tipologie di persone non saranno presenti quella sera, quelli che stanno male, i disonesti e i dormienti, quindi se siete svegli, se volete svegliarvi, svegliare la vostra coscienza e consapevolezza e dire io sono onesto e voglio eliminare la disonestà. Venite! Grazie! 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 Grazie!